Stiamo assistendo alla preparazione di che cosa, maestro? Da questa parte prepariamo una paella valenziana che si avvicina al mare, quindi de marisco, dove troviamo tutti gli ingredienti freschi e gustosissimi. Dall'altra parte il mio piccolino, quella originale, quella che arriva da Valencia, sulla parte interna da Valencia, quindi con le carni e le verdure, ma io vado a guardare l'Italia che scopo. Prego, maestro, grazie. E qua di nuovo, buonasera, siamo a buon punto, siamo agli ultimi 4 minuti. E poi spegniamo la piazza, va riposata per 8 minuti e degustata. Vi presento la mia personale paella de marisco, dove sembra un dipinto con tanto amore e passione ed ecco il risultato. Grazie dell'ascolto, alla prossima puntata. Grazie a voi, maestro. Grazie. Grazie a voi, maestro. Un bel applauso al nostro maestro di paella, lo facciamo? Un bel applauso al nostro maestro. E' un bel applauso al nostro maestro. Carita Slipperti, se vuoi sapere come ha raggiunto il piatto? Hai raggiunto, ma facciamo un po' azzia Bellissimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.